Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Games Princess. Io sono Erika, sono appena uscita da EA Play dove ho appena provato tra le altre cose Star Wars Battlefront 2 e mi è piaciuto abbastanza devo dire, mi è piaciuto il fatto che hanno introdotto le classi, quindi adesso avete quattro classi che sono l'assaldatore, il Levi, che è uno molto pesante, l'officer e lo specialista che è quello che mette anche le trappole. Li ho provati un po' tutti, la mappa che ho provato appartiene al primo episodio, quindi l'assalto al Palazzo Reale su Naboo non è male, devo dire graficamente è molto simile a quello precedente, sempre molto spettacolare, le partite sono molto rapide e molto veloci, quindi non vi annoiate sicuramente. L'unica cosa che non mi è piaciuta tantissimo devo dire è la mappa, perché nonostante avesse un po' di vicoli per aiutarvi ad avere degli approcci magari un po' diversi, alla fine mi sembrava tutto molto estremamente scriptato e diciamo che questa cosa mi ha fatto un po' storcere il naso. In linea di massima il gioco promette davvero bene, è più ampio del primo, quindi è quello che avrebbe dovuto essere il primo sostanzialmente e per ora mi è piaciuto un sacco, quindi vedremo poi alla Gamescom che cosa faranno vedere. Adesso io vado a casa che è tardissimo, ci vediamo al prossimo video, ciao!